Cosa è successo? Le femmine non ci lasciano entrare nella casa sull'albero! Sì, non è affatto giusto! Oh oh! Forse so come aiutarvi! Venite con me! Ora possiamo giocare a prendere il tè con calma e senza maschi! Cos'è questo rumore? Finito! Adesso voi ragazzi potete giocare in un vero castello che si apre con questo ponte-levatoio! È bellissimo! Grazie mille, Nanno Pig! Ci fate entrare? No! Questa è una fortezza per maschi e voi non siete le benvenute! Come vorrei poter giocare là dentro! La casa sull'albero è molto più bella del loro castello! Andiamo ragazze! Sono il re del castello! Ogni castello ha la sua bandiera! I maschi hanno una bandiera! A noi non serve una cosa tanto inutile! Ecco Nonna Pig! Ciao bambine! Posso portarvi qualcosa? Sì, una bandiera! E deve essere molto più bella di quella che hanno usato i maschi! Vedo cosa riesco a trovare! Sono il re del castello! Oh oh! In un castello che si rispetti deve esserci un telefono! Reggi questo! Tenete la corda bella tesa e potrete parlare con i vostri amici! Noi non vogliamo parlare con i maschi! E noi non vogliamo parlare con le ragazze! Nonna Pig ha trovato una bandiera per le bambine! La vostra bandiera sarà questo vestito! Grazie, nonnina! Mamma, perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa! Significa buongiorno! Come stai? E poi che cosa dice? Dame! Je me les princesses et joueurs avec mes amis! Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese! Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente Non capisco, non ha nessun senso Significa mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici Era quello che stavo per dire, infatti Anche io voglio parlare in francese! Magari puoi parlare con delfina asino E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera Evviva! Buongiorno! È-t'il possibile che Peppa parla a delfina? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con delfina? Pronto? Bonjour! Bonjour! Ehm... Ehm... E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao ciao! Au revoir! Au revoir! Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese! Ehm... Bonjour George! Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese! Dinosauro! No George! Non capisci niente di lingue straniere! È mattino! Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa Posta! Evviva! Ma che cosa ci fai sopra il tetto? Stiamo riordinando la soffitta! Cos'è la soffitta? È il posto in cui stanno le cose molto vecchie! Anche tu allora vivi lì! No! Lì ci sono cose perfino più vecchie di me! Possiamo aiutare? Come no! Stanno salendo verso la parte più alta della casa! Lassù c'è la porta della soffitta! E come facciamo ad arrivare fin là? Guardate! Ho un piccolo trucchetto! Eccomi qua! Buongiorno tesori! Ciao nonna! Forza! Venite! Questa è la soffitta! Wow! È piena di cose! Sì! Soprattutto cose inutili! Ma Peppa e George ci hanno offerto il loro aiuto per fare un po' d'ordine! Ottimo! Perché non cominciamo buttando questo scatolone? Oh! Per favore! Questo no! A che serve una cosa del genere? A niente! Ma è la mia nave in bottiglia! E questa qua? È un'altra preziosa nave in bottiglia, no? E queste allora? Sono gli altri miei splendidi modellini! Mi servono tutti! Beh! Dovremmo pur buttare qualcosa! Sì! Hai ragione! Cominciamo con questa scatola! No! Sono i miei cappellini! Oh cielo! Non riusciamo mai a decidere che cosa buttare! Ho un'idea! Facciamo decidere a George e a Peppa! Ok! Allora, che ne dite di questa valigetta? Oh! No! Quella no! Quella no! Non è certo una valigetta qualunque! E guardate! Si tratta di un vecchio giradischi! E questo qui era il nostro disco preferito! Possiamo sentirlo? Certo! Oh! Non lo ascoltiamo da anni! Questa cartina sembra un po' complicata! Volete salire ancora? Sì, per piacere! Più in alto! Più in alto! La mongolfiera vola sempre più su! Oh! Dove è andato a finire il cielo? Non preoccuparti, Peppa! Stiamo solo attraversando una nuvola! Oh! Wow! Il cielo è tornato! Evviva! Verso il blu Verso il blu Noi voliamo sempre più su Se con noi viaggerai Certo ti divertirai Guarda, Teddy! Siamo davvero molto in alto! Peppa, sta attento a non farlo cad... Teddy! Sta precipitando! Non ti preoccupare! Andiamo subito a prenderlo! Tenetevi forte, ragazzi! Comincia la discesa! La signora coniglio fa scendere la mongolfiera per andare a cercare Teddy Non riesco a vederlo da nessuna parte Eccolo lì! È rimasto impigliato in un albero! Magari potrei usare quest'ancora per recuperarlo Più piano Piano Preso! Papà Pig ha ancorato Teddy Teddy! Evviva! Oh no! Nessuno guarda dove stanno andando! Guardate lì! Sbatteremo contro l'albero! Tenetevi forte! Prima Teddy è rimasto impigliato E ora ci siamo impigliati noi! Papà Pig! Ma dove siamo finiti? Ti sei perso, non è vero? Sì Guardate tutti là! Quella è la casa di nonno e nonna! Sì! Dobbiamo essere finiti nel loro cortile! Come pensavo! Qualcuno ci sente? Nonna Pig! Nonna Pig! Siamo qua! Oh, santa cela! A dirla tutta! Sento la sua mancanza! Perché non la chiami al telefono? Buongiorno, signora Pig! Peppa può parlare con Susie, per favore? Ciao, Susie! Ciao, Peppa! Possiamo essere ancora amiche se mi chiedi scusa! Mi dispiace di averti detto che hai barato! Anche se in effetti era la verità! Bene! E a me dispiace di essere stata la tua migliore amica! Non ho bisogno di lei! Posso benissimo trovarne un'altra! Non c'è problema! È una bellissima giornata! Tutti i bambini sono al parco giochi! Danny Cane si sta divertendo con il suo migliore amico, Pedro Pony! George sta giocando con il suo migliore amico, Richard Coniglio! Don-do-lo! Don-do-lo! Susie Pecora è sull'altalena, da sola! Peppa sta giocando a mini-golf, da sola! Arriva Emily Elefante! Posso giocare anch'io? Certo! Emily! Susie Pecora era la mia migliore amica, ma non lo è più! Quindi potresti prendere tu il suo posto! Ma la mia migliore amica è Candy Gatto! Miau! Wiii! Zae, se vuoi, puoi essere tu la mia migliore amica! Ma io ne ho già una! È Rebecca Coniglio! Oh! Wiii! Ciao Susie! Ciao Peppa! Finalmente! Allora siete tornate ad essere amiche! Noi non siamo amiche! Non lo siamo e non lo saremo mai! Penso che sia il momento giusto per fare la pace! Peppa! Coraggio! Chiedi le scusa! Soltanto se lei chiede scusa prima! Soltanto se lei chiede scusa prima! Ho un'idea! Conterò fino a tre e lo direte insieme, nello stesso momento! D'accordo! Dinosauro! Ero quasi sicura che ti avrebbero regalato un altro dinosauro! Premilo sulla pancia! Troppo spaventoso! George, ti ho fatto un bigliettino di auguri! Indovina che cosa ci ho disegnato! George non ne ha idea! Avevo pensato di disegnarti un bel fiore! A George non piacciono i fiori! Ma poi alla fine ho deciso di farti un... Dinosauro! È davvero un bel disegno, Peppa! Lo so! La verità è che sono molto brava! Bene, ora andremo in un posto speciale, come dono di compleanno o extra! Evviva! Corriamo allora! Ma dov'è che andiamo? Lo vedrete! I bambini non vedono l'ora di scoprire di che cosa si tratta! Ci volete portare al circo? No, ma è un posto altrettanto bello! Allora è il cinema! No, molto meglio! Non riesco ad immaginare niente! Dove staranno andando? Siamo arrivati! Si sono fermati davanti al museo! Perché siamo venuti al museo? Un attimo e lo vedrete! Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! Dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo! Sempre i soliti noiosi dinosauri! Dinosauro! Un respiro bellissimo! E ora iniziamo a prepararci per la notte! Peppa e i suoi amici montano le tende! Bambini, ora dovete scegliere un compagno con cui dividere la tenda! Susi, vuoi stare insieme a me? Avevo deciso di andare con Zoe! Oh, scusami Susi, ma io l'avevo già promesso a Rebecca! Rebecca? Tu non dovevi stare con me! Oh, è vero! Emily, dimmi, tu con chi vuoi dividere la tenda? Ehm... Con Zoe! Ok! Va bene! Allora puoi restare insieme a me! Ok! Adesso mi servono bastoncini per accendere un gran bel fuoco! Li raccoglieremo noi! Ma volevamo andare io e Pedro a raccoglierli! Oh, potete andarci tutti insieme, bambini! Peppa e i suoi amici raccolgono la legna! Ottimo lavoro! Si è fatta notte, Peppa e i suoi amici siedono intorno al fuoco! Dai, bambini, cantiamo tutti insieme una canzone! Sì! La canzone del Bing Bong, per favore! Oh, non so, ecco! Per piacere, madame Cazzella, la canzone del Bing Bong! E va bene! Suoniamo un accordo canticchiando la canzone con un Bing e un Bang e un Bing! Bong bing boo! Bing bong bing! Bing bong bingli bung li boo! Bong bing boo! Bing bong bing! Bing bong bingli bung li boo! Oh, oh! Bene, bambini, adesso tutti a dormire! Buonanotte, bambini! Buonanotte, madame Cazzella! Allora, partiamo! Oh, la barca sta andando indietro! Ah! Fa' attenzione al ponte! Ops! Ah, c'è mancato poco! Ciao, ciao! Ciao, ciao! E buon divertimento! Spero proprio che me la ripartino ancora tutta intera! Non preoccuparti, è in buone mani! Peppa, suona la campana! Agli ordini, Capitano Papino! Mi è venuta un po' di fame! A chi lo dici? La nonna ci ha lasciato il pranzo, è sotto coperta! E che cosa vuol dire? Significa che si trova al piano di sotto! Seguitemi! Peppa e George entrano nella barca! Wow! Questa cucina è proprio piccola! Dov'è il nostro pranzo? Il posto più ovvio sembra questo! Oh, questo! Mi sa che ti sei sbagliato! Allora deve essere qui! Neanche quello era il posto giusto! Questa cucina è organizzata in modo davvero strano! Wow! Il televisore! Il papà non riesce a trovare il pranzo! Basta! Ci rinuncio! Se questa cucina fosse mia, il pranzo lo lascerei... Qui! Oh, eccolo finalmente! Peppa ha trovato il pranzo! Delizioso! Oh, ci sono le anatre! Buongiorno, anatre! Volete un po' di pane? Peppa e George adorano dare da mangiare alle anatre! Attenzione! Andiamo verso un canneto! Non preoccuparti! La barca ci passerà senza alcun problema! Siamo bloccati? No! Faremo retromarcia! Ora siamo bloccati? Sì! Leo preferirebbe una torta al cioccolato! Purtroppo, solo la torta ai canditi! È sicuro di non volerla assaggiare? Wow! Ha detto che gli piacerebbe provarne un pezzetto! Mamma Pig dà un po' di torta all'amico immaginario di Susie! George sta giocando col suo dinosauro! Dinosauro! George! Ti sei seduto addosso a Leo! George non sa che Susie ha un amico immaginario! Wow! Leo ha detto che non ce la fa finire la sua torta! Quindi può mangiarla a George! Andiamo a giocare di sopra adesso? Sì! Possiamo giocare a travestirci! Ma io lo stavo chiedendo a Leo! Oh! Leo ha detto che gli piace molto travestirsi! Bene! Andiamo, Leo! Peppa e Susie giocano a travestirsi! Peppa sarà una fata! Dimmi il tuo sogno e io lo realizzerò! Il mio sogno è di essere la regina Susie! Allora, Leo Leone può fare il giullare di corte! Figurati se sia contenta di fare il giullare! Lui vuole essere il re! Ecco, papà Pig! La mamma mi ha detto che in casa abbiamo un ospite molto speciale! È venuta a trovarmi la mia amica Susie, papino! Sei proprio sicura che non ci sia qualcun altro, Peppa? Certo che c'è qualcun altro! Il re Leo Leone! È un onore avervi fra di noi, il re Leo! Papà Pig finge di vedere il re Leo! Sapete che siete veramente elegante con quella corona d'oro? Sì, è davvero molto elegante e sta anche indossando i pantaloni rossi più belli che ha! È vero! E il suo golf blu fatto a mano! Ma che cosa dici? Leo non ha nessun golf blu fatto a mano! In questo momento indossa una camicia verde! Beh, è un colore incerto, un verde bluastro! Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George! Dipingerò il vecchio albero di ciliegio! Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa! Serve per appoggiare la tela! E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge un po' come i fogli di carta che usate voi! E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro! Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti! Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore! Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, Papa Pig! Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo! Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente! Molto bene! Iniziamo con l'azzurro! E ora disegniamo l'albero! Ci serve un po' di verde per le foglie! Ma il verde non ce l'abbiamo! Non preoccuparti! Se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde! Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde! Facciamo tante belle foglie verdi! E in basso un po' di erba! E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo! Possiamo crearlo noi! Basterà mischiare verde e rosso! Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone! Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero! Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa! Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi! Uno, due e tre! Ben fatto! George, tocca a te adesso! Sei davvero un grande pittore! Complimenti! Perfetto! Abbiamo finito il dipinto! Urrà! Oh! Ci sono le anatri! Ecco qua! Grazie! Buona pattinata! Ecco Susy Pecora, Rebecca Coniglio, Danny Cane, Zoe Zebra, Kenny Gatto, Emilio Elefante e Pedro Pony! Gli amici di Peppa sanno pattinare molto bene! Anche Peppa vuole pattinare! Ciao a tutti! Ciao Peppa! Questa è la prima volta che pattini, Peppa? Sì! Vuoi che ti insegni come si fa? No, ti ringrazio Susy! Sono certa di sapere già come si pattina! Ok, vieni con noi! Hai un aiuto! È assolutamente impossibile! Non voglio ritornare a pattinare mai più! Non preoccuparti, Peppa! È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio! Anch'io cado spesso! Guardami! Oh perbacco! Che tontolone! George, ti va di pattinare con me? No! George non ha mai provato a pattinare! E ha un po' di paura! Ci penso io a George! Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare! Pattinare non è difficile, Peppa! Devi spingere il piede e scivolare! Spingi, spingi, scivola! Visto? Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ma è davvero facile! Adesso posso farlo anche da sola, mammina! Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ben fatto, Peppa! Guardatemi! Sto pattinando! Peppa se la cava molto bene! Già! Sono un'ottima insegnante! Motori al massimo! Ciao, ciao, nonna! A più tardi! Peppa e George adorano il trenino del nonno! Il treno del nonno fa... Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il D! I maiali sul treno fanno oink 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 oink. I maiali sul treno fanno oink 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 tutto il D! Ecco nonno cane con Danny cane! Ciao ragazzi! Ciao Danny! Vedo che giocate con un bel trenino! Giocare? Gertrude è una vera locomotiva! Funziona ancora quel vecchio macinino? Vecchio macinino? Col mio carro attrezzi ho salvato molta gente che aveva bisogno di aiuto! Senti nonno, posso fare un giro sul treno? Certo, va pure Danny se trovi più divertente giocare su un trenino! Grazie nonno! A più tardi! La signora coniglio guida lo scolabus! Alla vostra sinistra ci sono delle colline con un po' di alberi! Ciao amici! Ciao Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa! Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva! Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo! Ascoltatemi! Alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno! Giro! Giro! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus! Va bene! Potete salire sul trenino! Io rimarrò dietro di voi! Il treno del nonno fa ciuf ciuf! Ciuf ciuf ciuf! Ciuf ciuf ciuf! Il treno del nonno fa ciuf ciuf! Tutto il D! Anche Peppa l'ha mancata! A Peppa e Susie piace giocare a tennis! Ma George si sente escluso! Oh! Mi dispiace George! Non possiamo far giocare anche te! Noi abbiamo soltanto due racchette! Ci sono! George, tu puoi fare il raccatta palle! Giusto! È un compito davvero molto importante! George farà il raccatta palle! Dovrà raccogliere la palla quando cade lontano! Io sono pronta! Oh! L'ho mancata! Raccata palle! Raccata palle! Ottimo lavoro, George! Oh! Raccata palle! Grazie molte, fratellino! Raccata palle! Accipicchia! A George non piace questo gioco! Ecco Danny Cane, Pedro Pony, Candy Gatto, Rebecca e Richard Coniglio! Ciao ragazzi! Ciao! Noi stavamo giocando a tennis! Possiamo giocare anche noi! Ma non ci sono abbastanza racchette! Oh! Allora facciamo qualcos'altro! Perché non giochiamo a calcio? Sì, giochiamo a calcio! Facciamo femmine contro maschi! A ogni squadra serve un portiere! Io, io! Io, io! Pedro Pony e Rebecca Coniglio saranno i portieri! Cominciamo! Go! Peppa, il cuginetto è davvero troppo piccolo per giocare a palla! Ma se non può giocare né con i dinosauri, né con la palla, allora che cosa può fare? O mangia, oppure dorme! E spesso fa così! Cietta, per favore me lo fai prendere in braccio? Sì! Se mi prometti di stare attenta, puoi tenere il piccolo Alexander! Alexander? E il suo nome! Si chiama Alexander! Che nome lungo per un maialino così piccolo! È molto carino! È strano visto che è un maschio! Cucucucu! Oh! Che cos'è questo odore? Forse... È arrivato il momento di cambiargli il pannolino! Eeeh! È disgustoso! Peppa, anche tu quando eri piccola sporcavi il pannolino! Non è affatto vero! Mamma, posso restare con Peppa e Giorgio a giocare fuori? Certo! Chloe, è bello avere un fratellino così piccolo! Sì! Alexander è davvero un tesoro! Vorrei che Giorgio fosse un piccolo maialino appena nato! Ho trovato! Giorgio può fare finta di essere un maialino! Devo entrare in questa carrozzina! È un'ottima idea! No! Giorgio non vuole fare il neonato! Giorgio, se ora fai finta di essere appena nato, ti prometto che con te sarò molto gentile per tutta la vita! Giorgio ci pensa! E potrai usare i miei giocattoli! Giorgio ci pensa ancora! E se ne avrai voglia, ti farò usare anche i miei giocattoli! Giorgio ha deciso! Gugù! Sei davvero un maialino adorabile! Ecco Candy Gatto, Susy Pecora, Rebecca Coniglio e Zoe Zebra! Ciao! Come mai Giorgio è dentro a questa carrozzina? Lui non è Giorgio! È un maialino appena nato! Gugù! A me sembra proprio Giorgio! Noi stiamo facendo finta che sia appena nato! Ah! Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo! Una mela! Anch'io, ma la mia è verde! Scambiamocile! Peppa, Susy! Cosa state facendo? Susy mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo! Peppa mi ha detto di scambiarci le mele! Oh, non importa! Ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic! Sì, Madame Gazella! L'autobus è arrivato alle pendici dei monti! La strada è molto ripida! Forza, autobus! So che ce la puoi fare! Forza, autobus! Evviva! Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte! Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro! Che cos'è l'eco? Un eco! È il suono che si ripete quando si grida in montagna! Ascoltate! Yodole! 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 Ehem! Yodole! 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 piacciono i picnic! Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic! Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne! Salve signora anatra! Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate! C'è un sacco di pane! Giorgio è un po' troppo piccolo! Si stancherebbe molto in fretta Peppa! Ma io ormai sono grande! Non mi stanco facilmente! Faremo un giro piuttosto lungo Peppa! Sei proprio sicura? Sì papà! Non preoccuparti! Molto bene! Siete tutti pronti? Sì papà Pig! Allora partiamo! Sto vincendo! Questa non è una gara Peppa! È soltanto una tranquilla passeggiata in bici! Sì papino! Ma sto comunque vincendo io! Ah ah ah! E ora chi sta vincendo? Salire sulle colline non mi è mai piaciuto! Hai visto? Abbiamo vinto la gara! No invece non avete vinto perché in quel momento io non stavo gareggiando! Ma adesso sì! Ah ah ah! Provate a prendermi! Ah ah! Non sei altro che un'imbrogliona! Ah 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 ah! Ciao anatre! Stiamo facendo un giro in bicicletta! Ah ah ah! Ah 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 ah! Avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta! Ah ah ah! Mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto! Il percorso è molto ripido! Le colline dovrebbero essere più basse! Sì ma guarda che panorama stupendo! Oh! Povero me! È davvero molto faticoso! Mamma Pig! Tu non stai pedalando! Oh! Scusami papà Pig! Mi stavo godendo la bella vista! Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina! Ci sono gli amici di Peppa! Ciao Peppa! Ciao! Stavamo per fare una gara di velocità! Peppa perché non partecipi anche tu? D'accordo! Ma soltanto se la gara la facciamo in discesa! Va bene! Mamma Pig sta acquistando un armadio per i giocattoli! Allora! Quale volete? Possiamo comprare questo mamma! Mi sembra perfetto! L'armadio è stato scelto! Congratulazioni! Il suo ordine è confermato! Oh! Che bello! È mattino e il signor Zebra ha una consegna speciale! Sposta! C'è un bel pacco in arrivo per la signorina Peppa Pig e per il signor George! Di che si tratta? È il vostro nuovo armadio! Oh! Sembra un tantino sottile! Certo! Perché lo dovete montare! Oh! Non preoccuparti Peppa! Sicuramente per i tuoi genitori non sarà un problema! Arrivederci! Arrivederci! Ciao! Che cosa facciamo ora? Ma è chiaro! Montiamo il vostro armadio! Evviva! Ma che strano! Non ci sono le istruzioni! Magari montarlo è talmente semplice che non c'era bisogno di metterle! Mamma! Possiamo aiutarti? Certo! Peppa, mi puoi portare un ripiano? Eccotene uno verde! Grazie mille Peppa! E adesso mi servono quattro gambe! Uno, due, tre, quattro! Sono tutte per te, mamma! Perfetto! Lo finiremo in un attimo! Tieni questa porticina rossa! Ti ringrazio, mi serviva! Ecco! Finito! Hai fatto un ottimo lavoro! È molto piccolo! Come faranno a starci tutti i nostri giocattoli? Già, effettivamente hai ragione! Oh! George ha trovato un altro pezzo! Ehm... Forse quello è un ripiano di scorti! È mattina! Oggi Peppa e George andranno a casa di Rebecca Coniglio! Mamma Pig guiderà, mentre io darò le indicazioni! Sei sicuro, Papà Pig? Ci siamo sempre persi seguendo le tue indicazioni! Non questa volta, cara! D'accordo! Siamo tutti pronti? Sì, Mamma Pig! Allora si parte! Peppa e George sono felici! Non sono mai stati a casa di Rebecca Coniglio prima d'ora! Papino, siamo quasi arrivati! Secondo la mappa, la prossima collinetta è quella di Rebecca! Strano, non riesco a capire! Rebecca Coniglio dovrebbe abitare proprio qui! Ci siamo persi! Sulla collina c'è solo un orto di carote! Dove sarà mai la casa di Rebecca Coniglio? Salve a tutti! Rebecca! Puoi venire a giocare nella mia stanza? Nella tua stanza? Ma se non c'è la casa! Peppa non capisce dove sia la casa di Rebecca! L'intera collina è una casa! È la nostra tana! Oh! Volete vederla? A più tardi! A più tardi, papino! Entrati! Qui non ci sono scale, ma gallerie! Wow! La casa di Rebecca è diversa da quella di Peppa! Questa è la nostra stanza! Wow! Hai un letto, una finestra e un cesto per i giocattoli, proprio come noi! Ma certo! Mi piace la tua casa! Vorrei tanto essere un coniglio! Trovato! Posso insegnare a te e a George ad essere conigli? Sì, ti prego! Primo, dovete storcire il naso e squittire, come noi! Peppa e George scrivono una risposta a Zoe! Allora, che cosa le vuoi dire? Cara Zoe! Cara Zoe! Adesso non so più come continuare! Che ne pensi di... Ci piacerebbe molto venire alla tua festa! Cordiali saluti, Peppa e George! Bambini, che colore preferite per la busta? Voglio la rossa! Signorina Zoe Zebra! Bene, e adesso il francobollo! La lettera è pronta per essere imbucata! Questa è la cassetta postale! Ecco Danny, Susy, Pedro, Rebecca ed Emily Elefante! Stanno imbucando le loro lettere! Ed ecco Peppa con la sua busta! Fatto! E adesso che cosa succede? Buona giornata a tutti! Ciao Peppa! Ti è arrivata la lettera d'invito alla mia festa? Sì! E ti ho anche scritto una risposta, sai? Oh, che bello! Guarda un po' qua! Quante lettere devo recapitare oggi! Zoe, vedi? Questa è la mia! Ed è davvero molto, molto importante! È quella che hai scritto a me! Posso aprirla adesso? Sì, Zoe, è indirizzata a te! Ma prima di fartela leggero il dovere di consegnarla! È così che funzionano le poste! Oh! E visto che a quanto pare oggi avrò un sacco di lavoro, è meglio che inizi a darmi da fare! Scusi, possiamo venire anche io e George? Ma certo, forza! Saltate su! Ci vediamo dopo! Peppa e George aiutano il signor Zebra a consegnare la posta! Questa è la casa di Zoe Zebra Questa lettera è indirizzata alla signorina Zoe Zebra Per la signorina Zoe Zebra Zoe Zebra Zoe Zebra Zoe Zebra Queste lettere sono tutte per Zoe Quella che hai in mano è la mia! La lascia imbucare a me? Ma certo, tieni! Peppa adora imbucare le lettere Cucu! 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 Che piccolo maialino rumoroso sei, George! Cucu! Guardate! Sta per uscire fuori! Wow! Che tontolone! Ti sei perso il cucu? È stato davvero, davvero fantastico! Ha fatto cucu! E tu non l'hai visto! Non preoccuparti! Vedrai il cucu alla sua prossima uscita! Ma devi aspettare! Perché esce soltanto una volta ogni ora! È noioso aspettare! Dai, George! Andiamo fuori a correre! George non vuole andare fuori a correre! Preferisce aspettare il cucu! Sono quasi le dieci! George sta aspettando ormai da quasi un'ora! Adesso basta! Vieni a giocare! Anche il dinosauro vuole giocare insieme a te, George! Grrrr! Grrrr! Dinosauro! George, di nuovo, non ha visto il cucu! Non preoccuparti, George! Va pure a giocare in giardino! Ti avviso io quando sarà il momento di vedere il cucu! Prendilo, George! Sono quasi le undici! Peppa! George! È ora di vedere il cucu! Sbrigati, George! O perderai il cucu un'altra volta! George sta correndo più veloce che mai! Peppa! Peppa! Mamma, papà, si è rotto lo stereo ed è pure diventato tutto buio! E l'aspirapolvere all'improvviso si è spento! Anche il mio computer non funziona più! Mamma Pig preme l'interruttore, ma la luce non torna! Probabilmente c'è stato un blackout! E che cosa vuol dire? Se c'è un blackout, significa che non arriva l'elettricità! Che cos'è l'elettricità? Tesoro! L'elettricità è ciò che fa funzionare tutto quello che abbiamo in casa! E questa elettricità può tornare di nuovo? Sì! Ma mentre aspettiamo, faremmo bene a cercare una torcia! Credo che ce ne sia una nello scantinato! Ottimo! Vado io a prenderla! Ma al buio non riuscirai a trovarla! Oh, non ci sono problemi! Ci vedo benissimo anche se non c'è luce! Ma cosa ci fa questo qui? Papà, è tutto a posto? Sì! C'è solo più buio di quanto immaginassi! Adesso che ci penso? Credo che la torcia in realtà sia in cucina! Mamma Pig ha trovato la torcia! Per favore, posso tenerla io? D'accordo! Grazie, mammina! George, guarda un po' qui! Peppa fa un'espressione buffa! Ma no, George, sta tranquillo! È solamente Peppa! Oh, dobbiamo avvertire vostro padre! È ancora laggiù al buio! Papà Pig è in cantina e sta cercando la torcia! Ma dove si sarà cacciata? Papà! La torcia era quassù! Per fortuna è sempre estate in cucina, non là sotto al buio! Hai ragione, una vera fortuna! Papa Pig vuole leggere un giornale! Oggi è un giorno perfetto per non fare niente! Papa Pig adora non fare niente! Oh, accidenti, Papa Pig! Ci siamo dimenticati di badare al giardino! A cosa ti riferisci, Mamma Pig? All'erba! Deve essere tagliata! A me piace, Alta! Hai il fascino del selvaggio! Mammina, Papino, venite a giocare con noi nell'erba alta! È uno spasso! Va bene, andiamo a giocare con questa palla! Che fine ha fatto? La palla si è nascosta nell'erba alta! Non riusciremo mai più a trovarla! Forse c'è davvero bisogno di tagliare l'erba! Sì, Papa Pig! Vado a prendere il tosaerba! L'avevo messo qui da qualche parte! Ah, eccolo! Papa Pig ha trovato il tosaerba! Sembra vecchio e arrugginito! Non è vero! Taglierà l'erba in un batter d'occhio! Beh, dopo tutto un po' arrugginito lo è! Forse dovremmo chiamare Nonno Pig e chiedergli in prestito il suo tosaerba! Ma non c'è bisogno di disturbarlo! Devo soltanto spingere con più... forza! Il tosaerba di Papa Pig non funziona! Ho un'idea! Chiamiamo Nonno Pig! Pronto? Nonno Pig al telefono! Ciao, Nonno Pig! Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Oh, certamente! Vengo subito da voi! Ciao! Mi sa che questo è un lavoro per Betsy! Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore! Capitola! Nei! E! Grazie a tutti.